Ciao, sono Dania e da oggi vi accompagnerò nell'avventura di Tech Lovers. La mia storia di felicità con la tecnologia e il web è iniziata un anno dopo la mia laurea, quando nel 2003 ho aperto il mio blog dottoressadania.it. Nonostante una formazione da antropologa del Medio Oriente, grazie al taglio rigorosamente serio, castigato e professionale dato alla mia immagine sul blog, la mia carriera ha avuto una svolta e oggi mi occupo di marketing, comunicazione aziendale e organizzazione di eventi. La tecnologia, il PC, internet hanno semplificato moltissimo la mia vita. Mi hanno permesso di comunicare con tante persone contemporaneamente e di coltivare numerose amicizie maschili stando comodamente seduta in poltrona. Inoltre posso reperire ed acquistare preziosi strumenti di lavoro con un semplice click. Il web velocizza i tempi, alleggerisce e semplifica il mio lavoro e mi rimane molto più tempo libero da dedicare a me stessa e alla mia formazione culturale. Io sono una tech lover. Anche tu un tech lover? Sì sì, mandaci il tuo video. Potrai far conoscere la tua storia e vincere uno dei premi in palio. Ti aspettiamo. Sì sì, mandaci il tuo video.